Tutti a scuola in presenza da settembre, ma come? Se non fossero sufficienti i mezzi per trasportare in distanziamento tutti gli studenti per il presidente della provincia, le superiori potrebbero eventualmente fare lezione anche al pomeriggio. E quindi diversificare i tempi scuola con alcune classi la mattina, con alcune classi al pomeriggio. Ciò passa tramite una condivisione, una condivisione tra tutti, provincia, istituti scolastiche, azienda di trasporti, comune. Intanto la provincia annuncia lo stanziamento di oltre 40 milioni di euro per l'edilizia scolastica, una trentina in arrivo dal governo da spendere obbligatoriamente entro 5 anni. Risolveranno alcuni problemi urgenti delle scuole superiori di Padova e provincia. Con 17 milioni si costruiranno ex novo un plesso scolastico con palestra in un'area davanti agli istituti Gramsci e Cornaro in via Canestrini. Un edificio da 20 aule a fianco al liceo Modigliani in via Scrovegni, per ospitare due delle attuali quattro sedi del liceo Marchesi, quelle di Viale Codalunga e via Bronzetti. Verrà completato l'ampliamento dell'istituto Pietro D'Abbano, intervento che darà una scuola vera ai ragazzi attualmente ospitati nei container. Con 10 milioni di euro la provincia amplierà l'istituto Einstein di Piove di Sacco e raddoppierà la capienza del convitto San Benedetto da Norcia di Padova, per ospitarvi i ragazzi sordomuti del convitto Magarotto oggi all'Arcella. Con altri 13 milioni di euro del Ministero, tra le altre cose, si interverrà con intera copertura finanziaria alla ristrutturazione e all'adeguamento normativo dell'Ala Est dell'Istituto d'Arte Selvatico. Interventi di adeguamento sismico sono previsti tra gli altri ai licei Meucci Caro e Fanoli di Cittadella, agli istituti Marconi Bernardi di Padova, al Newton Pertini di Campo San Piero e al Rolando da Piazzola. Discorso a parte per il Valle. Si cerca una nuova sede. La provincia investirà sull'attuale edificio solo se non ne troverà una nuova. Polo scolastico di Brusegana, per ora congelato, ha concluso Bui.